da quando ho conosciuto l'arte sacerdote andata una prigione rappresenteremo sulle tavole del nostro parco scenico un'opera di shakespeare di giulio cesare guantario bonetti nato il 16971 quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena i regni non ancora nati il linguaggio non ancora inventato e quante volte cesare dovrà sanguinare sui sceni di teatro come anche qui oggi in questo nostro carcere è brutto i suoi amici su un uomo ne d'onore un uomo ne d'onore un uomo ne d'onore un uomo ne d'onore